L'opposizione a Main ha avanzato qualche critica nei confronti dell'amministrazione comunale per quanto riguarda la tenuta del paese, soprattutto la pulizia delle strade, delle spiagge. Purtroppo c'è stato un periodo di defiance dovuto, parliamo dell'inizio estate, dovuto ad alcune carenze temporanee di personale o per malattie o per ferie e in quel momento non eravamo riusciti a ingranare. Subito dopo, ma prima della fine di giugno la situazione si è normalizzata, abbiamo provveduto al riordino, alla pulizia delle spiagge e quindi all'accoglienza turistica che tra l'altro quest'anno ha avuto un buon incremento, poi al di là delle percentuali, alcune dicono addirittura il 30%, a noi va bene. L'importante è che è comunque una priorità quella di mantenere il territorio a posto, non sempre chiaramente si può essere puntualissimi, ma è stato proprio un episodio casuale. Tra l'altro devo aggiungere che in questo momento ci sono diversi lavori pubblici in atto e quindi sarebbe anche possibile trovare qualche imperfezione. Però noi abbiamo stanziato dei fondi proprio per la pulizia dei boschi, per il riordino degli asfalti, dei marciapiedi, segnaletica, pulizia, taglio piante in modo di avere un momento di salto in avanti nella pulizia. Voglio aggiungere che non si vede molto, in questo momento stiamo facendo il quarto intervento sul torrente Tiasca, impegnando ben 200.000 euro stanziati dalla regione che mette, dopo già tre interventi sul nostro torrente, il nostro territorio aggiunge un altro valore di sicurezza alla regimazione spondale. Grazie.